Oggi il tempo è variabile su bello e caldo, soprattutto caldo, molto caldo. Vorremmo un po' di fresco, molto fresco, freddo. Spero che tu adesso tagli tutto, naturalmente. Benvenuti in questo nuovo video, signori e signori, voglio fare un tentativo sul mio canale, un nuovo format con mia mamma. Nuovo, nuovo sul mio canale, ma ci sono già il punto è che adesso lo voglio portare anche sul mio. Se approvate questo format lasciate un mi piace, subito di partenza, così ci caricate. Se vi piace questa cosa qua, con mia mamma, non ditelo troppo sennò poi, e porteremo più ricette. Se vi piacerà questo format, da settembre partiamo cariche. Di spesa? No, cariche che mettiamo altri video, porca palestra. Allora, la ricetta di oggi è la ricetta dei pancake più buoni al mondo. Vabbè, abbrassati ma... Stai smontando tutto il video, ma... più buone al mondo. Sarà dei pancake più buoni al mondo. Vabbè, iniziamo con la ricetta. Ok. Possiamo anche rifare un'altra intro, eh. No, è perfetta. No, fa schifo. Allora, abbiamo preso due farine a casa, voi scegliete le farine che volete. Abbiamo integrale e due. Un uovo, albume, ricotta. Dov'è che le hai preso, ma? Verso loiano. Vabbè, insomma, come si dice. Bologna, questa è la ricotta. Abbiamo olio di cocco, potete mettere l'olio che volete. Abbiamo zucchero e marmellate fatta da mamma. Se volete la ricetta è un altro video insieme, fatecelo sapere. Arrivò. E... Allora, vediamo se... Volevamo mettere... Ah, poi c'è la banana. Banana super matura, così dolcifica di più. Vediamo se basta aggiungerti un cucchiaio di marmellate invece che lo zucchero. E basta, insomma, dolcificare tutto. Mamma, è molto restia a non mettere lo zucchero. Si può fare, ma... Poi, perché ha problemi con il lievito, l'alternativa è il bicarbonato, limone o bicarbonato acueto. Bravissimo. E il bicarbonato poi lo tiriamo fuori. E invece chi ha problemi può mettere il lievito. Utilizziamo per mixare adesso questo qua. Se siete interessati a acquistarlo, noi ci stiamo trovando molto bene, c'è il link in descrizione su Amazon. Madre, mischiamo prima uovo, ricotta, olio e banana che tu ora mischiacci su un piatto con una forchetta per una bella purea. Tu non è cucina con mamma, mamma schiava. E io anche io sto facendo mica ti sto... Ah! Ti sto dando solo ordini. Uovo poi. Nella mia ricetta inventata ho deciso... Ah! Questa ricetta è per due persone, quindi facciamo circa 80 grammi di farina e potete fare neanche 100 le quantità che volete. E di olio facciamo due cucchiai, che sono circa 20 grammi. Mettiamo prima i liquidi e i mezzi liquidi. Provo. Valendo? Vai! Sì! 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 Allora deve venire una bella consistenza cremosa. Pronto. Sì! Sì! Ma tanto sono qua che sto osservando. Metti le stelle. Allora mettiamo un cucchiaio di marmellata. Poi c'è già... no? Sì! Ah! Certo! Sì! Ah! Questa è una marmellata di mamma. Arbicocca. Arbicocca. Allora partiamo con un cucchiaio. Beh. Ovviamente non possono venire anche a voi tanti più buoni al mondo perché non c'è la parmellata di mia mamma. Sì! È vero. Fateci qualcosa. Adesso vediamo. Marmellata. Yes! Assaggi la dolcezza. Prova dolcezza. Di banana. Sì, sentirò così abbastanza dolce. Allora mettiamo un briciolino ancora di marmellata. Ma lei finisce? Se no con il zucchero. Ma no. No, è di marmellata. Guarda. È l'ora. Allora procediamo con aggiungere la farina. Qua dentro? Sì. Ecco. No. Tutto alla dentina e poi dopo frulli. Sì. Sì. Non ti vengono i grumi? Non lo so. Allora, facciamo la metà. Bene. Siamo passati giunti alla fase finale del bicarbonato e il limone. Finito? Andiamo a usare questa padella qua. Mamma. Di 18 centimetri. Facciamo proprio il pancake di questa grandezza. Oh. Accendiamo. Allora, questa è antiaderente. Io però ci aggiungo, ci aggiungo una spruzzatina di olio. Come una spruzzatina. Perché ci piace. Prego. No, 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 no. C'è il piccolo pennello. Allora, belle ingobbite. Prego, prego, prego. Faccia lei. No, no. Questo non è sempre facile. Non è il mio campo, il pancake. Sì, ma basta fare così. Bene, bene. Faccia vedere lei. Non si vede il tegamino, eh? Lo facciamo vedere dopo. Minchi, si è venuto. Bello cremoso, bello spesso, posto, compatto. No, no, scusami, butta dentro il... Ma questo deve essere andare piano piano piano. Deve essere andare. Essere o non essere. Oggi adesso, io, devo aggravo la giocatura. È un po' più di più, ma. Lo facciamo vedere, che bello, che bello. Ha? E, a mezzo. Ma ti stai, ma, ma... C'e, a mezzo. Ma ti stai, ma, 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 ma. Si? E, allora, ma. Ma, ma, ma. Sì. eccoci. Allora, dobbiamo assaggiare. Mi sono ben compito. Io li ho cotti tutti quanti. Molto bene. L'aiutante non ha aiutato. D'altronde i due ci si è. Allora, che me lo soffici. Sì. Come sono aspe. Non lo so male. Sì. Te l'ho detto. Molto male. Sono sofficissimi. Che ti devo dire? Mi arrivo anche io che vuoi nel mondo. Buonesimi. Il mondo tutto ci invidia. Oh, l'ho inventato sul momento, la ricetta. Un genio. Pagli smalti. L'appetitoio, 100 euro. Molto bene. Grazie. Ora che siete giunti alla fine del video senza saltare neanche un pezzo, sono sicura, come premio avete proprio tutto il bel procedimento. Tengo su. Bravissima. Molto bene, mano di mano. Come vedete, è ricetta dei pancake più buoni del mondo. Pancake fan. Comunque, ciambelle. Prossimo video, ciambelle. Fateci sapere cosa volete che noi cuciniamo. Dicetelo. 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 Scrivetelo. È già andata, eh. Comunque, diteci sotto i commenti quale ricetta volete che noi svolgiamo insieme. E non la faremo perché non ne saremo in grado. Ecco, quindi non le cose troppo complicate. E se vi proponete questa ricetta qua, ovviamente ditemelo su Instagram. Tutti i social sono lì. Noi vogliamo vedere tutto il procedimento, cioè ore e ore di filmato. Noi ci siamo qua apposta. Che cosa stavo dicendo? Trovate tutti i link ai miei social in infobox. Mi sento una giornalista. Non proprio così. Grazie. Non ti do i 100 euro dopo. E seguitemi in tutti i social. Sono anche su Twitch. Quindi questo è il primo video del format. E ultimo. Se vi piace ne proporremo altri. Anche spalliciate. Condividete. Che fatica. No, anzi ci eri pensato. Non voglio portare questo format. Sono fatica con te. Basta. Ci vediamo al prossimo video. Un grazie. Un grazie. Un bacio. Un bacio. Grazie a tutti. Avete avuto molta pazienza. Grazie. Tra la doccia. Basta. Grazie a tutti.